Oggi nuova puntata del format ponente e ci troviamo qui a L'Aigueglia. Secondo alcune supposizioni storiche, l'origine del nome L'Aigueglia deriverebbe dal nome Aquiglia, dall'insegna delle legioni dell'impero romano L'Aquila. Invece qui a lato troviamo il bastione di Levante o bastione del cavallo, l'unico dei tre torrioni rimasti nel comune di L'Aigueglia. Risale al 500 e aveva numerose funzioni, ad esempio quella difensiva, quella di carcere e anche dal lazzaretto per i marinai in quarantena. Poco distante dal bastione si trova il Molo, il luogo ideale per ammirare la lunga spiaggia che separa il borgo dal mare. a Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.